Civita Vecchia Civita Vecchia Civita Vecchia Rotonda vittoria per il Civita Vecchia nel recupero di eccellenza i nerazzurri sono andati a vincere con un roboante 5 a 2 sul campo della strea sempre più vive le speranze playoff Buonasera ben trovati iniziamo subito con i dati relativi al porto di Civita Vecchia bene come sempre nel settore delle crociere dei passeggeri molto male invece come ormai avviene da un decennio a questa parte nel settore delle merci con particolare riferimento ai contenitori e quanto emerge per il porto di Civita Vecchia dalla classifica nazionale dei traffici 2021 diffusa da Assoporti l'associazione che raccoglie le 16 autorità portuali italiane e nella quale sono inseriti dati relativi a 47 scali merittimi attualmente operativi nel nostro paese per sapere di più vediamo il servizio una classifica in agrodolce per il porto di Civita Vecchia quella stilata da Assoporti l'associazione che raccoglie le 16 autorità portuali italiane e che si basa sui dati relativi ai traffici del 2021 comunicati dagli stessi enti proprio nei giorni scorsi Assoporti ha inviato agli organi di informazione il prospetto nel quale sono indicati i dati riguardanti i diversi traffici suddivisi non solo tra le 16 autoriti ma anche per i singoli 47 scali merittimi che ne fanno parte ebbene Civita Vecchia conferma praticamente quanto già si conosceva ne esce più che bene nel traffico delle crociere come ormai avviene da oltre un decennio e in quello dei passeggeri diretti verso le isole in Spagna mentre non esce altrettanto bene nel settore commerciale per quanto concerne in particolare le crociere si conferma primo porto in Italia peraltro solo per poche centinaia di passeggeri è stata ancora una volta superata da Barcellona a livello internazionale con 519.000 turisti oltre 100.000 in più di Genova 416.386 e più del doppio rispetto a Napoli 250.821 per poco invece non riesce ad andare sul podio per ciò che riguarda i passeggeri delle navi traghetto avendo chiuso il 2021 quota 1.228.321 superata nell'ordine da Genova con 1.678.315 Livorno con 2.226.765 e Olbia con 2.544.762 dove purtroppo le cose non vanno bene si sapeva è nell'ambito delle merci per quanto riguarda il traffico complessivo ovvero quello che comprende le rinfuse liquide e solide le merci in contenitore in rorroe e le varie Civitavecchia chiude il 2021 al sedicesimo posto con 9.650.607 tonnellate complessive lontanissima dal vertice che vede al primo posto Trieste con 55.361.257 tonnellate Genova al secondo con 48.831.609 e Gioia Tauro al terzo con 35.559.302 proprio lo scalo marittimo calabrese si conferma invece leader nel settore dei container con 3.146.533 teu precedendo Genova con 2.557.847 teu e la Spezia con 1.375.626 teu per Civitavecchia quindi quindicesimo posto con 100.248 teu superata anche da Cagliari e Marina di Carrara e rimaniamo in tema del porto sarà la Grimaldi dopo i sei mesi di proroga scaduti qualche giorno fa ad assicurare i collegamenti marittimi tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari per i prossimi 12 mesi la grande compagnia armatoriale napoletana ha annunciato proprio ieri di essere risultata vincitrice del bando che era stato lanciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sarà garantita quindi ancora per un anno la continuità territoriale dal continente al sud dell'isola che negli ultimi giorni era venuta a meno essendo la Sardegna raggiungibile solamente attraverso il porto di Olbia Grimaldi ha confermato quelle che erano le indicazioni del bando ovvero che la linea avrà una frequenza trisettimanale i giorni diventeranno quattro nel solo mese di agosto quando è prevista una partenza in più da Civitavecchia nella giornata del giovedì e una partenza in più dalla Sardegna dal sabato confermato anche l'utilizzo del traghetto Catania che aveva già assicurato il collegamento negli ultimi mesi e che risponde alle caratteristiche che erano indicate nel bando del Ministero Cambiamo argomento è partito ieri mattina lo screening sanitario dell'Asla Roma 4 alle mamme e ai bambini provenienti dall'Ucraina ospitati presso la struttura alberghiera del Sun Bay Park Hotel un lavoro di squadra con l'ausilio di interpreti ucraini che hanno dato volontariamente la loro disponibilità alla protezione civile locale che sta coordinando le attività ieri anche il coordinatore dell'unità di crisi a Rillo si è portato presso la struttura dopo che la Regione Lazio aveva inviato una mail al Comune con tutti i dati degli ospiti si conferma sempre di più la risalita dei casi del Covid a Civitavecchia Asla Roma 4 e Regione Lazio annunciano nel consueto report che si sono registrati 117 nuovi casi positivi sono 94 invece le persone guarite nelle ultime 24 ore ora il totale degli attuali contagiati è di 1.127 grazie all'impegno dei funzionari dell'ADM di Civitavecchia guidato dalla dottoressa D'Amato su disposizione della competente autorità giudiziaria la scorsa settimana sono compiute le operazioni di donazione in beneficenza di circa 28.000 capi di abbigliamento da donna tra tute e pantalodi sportivi articoli sequestrati al loro ingresso sul territorio provenienti dalla Cina recanti etichette con inesatta composizione delle fibre tessili i capi di abbigliamento non adatti alla vendita sono stati consegnati alla comunità di Sant'Egidio con cui ADM ha firmato un protocollo di intesa volto alla cooperazione su azioni congiunte a scopo benefico relative a forme di solidarietà sociale ed azioni di contrasto alla povertà i capi di abbigliamento donati alla comunità Sant'Egidio saranno destinati a soddisfare le richieste pervenute dalle case circondariali di detenzione sul territorio del Lazio e dell'Abruzzo cambiamo ancora una volta argomento dal punto di vista demografico Civitavecchia ha fatto registrare un dato in controtendenza durante il 2021 se da una parte infatti è continuata l'emoragia da parte dei residenti con un'ulteriore diminuzione complessiva da un'altra si è registrata un'inversione di tendenza come dicevamo riguardo la popolazione straniera dopo il calo che si era infatti manifestato nel 2019 e nel 2020 lo scorso anno il numero degli stranieri residenti è tornato a crescere ascoltiamo il servizio un saldo positivo di 111 stranieri a Civitavecchia nell'arco di un anno il numero dei residenti non italiani è infatti salito dai 3.007 iscritti all'anagrafe al 31 dicembre del 2020 ai 3.118 di fine 2021 al momento gli stranieri sono quasi il 6% delle persone che vivono in città con una più che notevole rappresentazione etnica i non italiani che risiedono in città appartengono infatti a ben 54 nazioni differenti rappresentando praticamente tutti i continenti e anche nazioni che hanno complessivamente una popolazione esigua a fare la parte del leone come ormai avviene da quasi 30 anni è la comunità romena sono ben 1812 i romeni residenti in città con una assoluta preponderanza delle donne 1.034 sugli uomini 778 una preponderanza dovuta in particolare alla tipologia di lavoro visto che si tratta in gran parte di soggetti che operano nel settore dell'assistenza alle famiglie ovvero colf e badanti analogo il discorso per la comunità ucraina che a Civitavecchia al 31 dicembre 2021 contava soltanto su 49 residenti 40 dei quali però di sesso femminile diverso il discorso invece per quanto concerne altre importanti rappresentanze straniere in particolare quelle di religione musulmana dove a prevalere sono gli uomini tra i 63 egiziani residenti in città infatti i rappresentanti del cosiddetto sesso forte sono ben 50 stesso discorso per la comunità senegalese che conta su 36 uomini e solo 14 donne sostanzialmente equilibrato invece il rapporto per quanto riguarda le altre due comunità più numerose dopo quella romena i cinesi che a Civitavecchia sono 163 sono praticamente equamente divisi 82 uomini e 80 donne stesso discorso per la comunità albanese che al 31 dicembre 2021 risultava essere composta da 95 residenti suddivisi tra 48 uomini e 47 donne si sono concluse poco dopo la mezzanotte le operazioni dell'incendio divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Civitavecchia per la precisione all'interno di un'azienda di riciclaggio di rifiuti differenziati che si trova in via Attilio Bonucci ad andare in fiamme sono state soprattutto tonnellate di carta e cartone che hanno ovviamente favorito lo svilupparsi dell'incendio gli uomini della Bonifazi presenti sul posto con diversi mezzi sono riusciti a sedare completamente l'incendio dopo oltre 6 ore di lavoro e a mettere poi in sicurezza l'intera area è stata informata dell'accaduto anche Arpalazio che dovrà valutare l'eventuale presenza nell'area di sostanze tossiche che possono essersi sprigionate a causa dell'incendio già domani si saprà comunque se l'episodio è provocato come già avvenne in passato per analoghe situazioni un innalzamento dei valori degli agenti inquinanti quotidianamente controllati con particolare riguardo alle polveri si terrà domani pomeriggio alle 16.30 al Parco della Resistenza in occasione del 78esimo anniversario della strage delle fosse ardiatine la cerimonia ricordo dei due civita vecchiesi Francesco Chiricozzi e Antonio Margioni trucidati dalla furia nazifascista l'importante evento in cui verrà posta una targa ricordo è organizzato dalla sezione locale dell'AMPI ascoltiamo le nostre interviste una cerimonia da parte dell'AMPI per la memoria per non dimenticare due caduti civita vecchiesi vittime alle fosse ardiatine allora di che iniziativa si tratta? ne parliamo con il presidente dell'AMPI di Civita Vecchia Giorgio Gargiullo allora qual è questa iniziativa? bene domani esporremo una targa in ricordo in memoria di questi due civita vecchiesi assassinati dai nazifascisti alle fosse ardiatine credo che sia una cosa importante perché Civita Vecchia deve ricordare questi martiri perché perdere la memoria come è scritto sulla nostra locandina e sulla targa stessa perdere la memoria significa ucciderli un'altra volta quindi credo che la città deve fare del tutto per ricordare quei martiri e si deve fare del tutto per ricordare quello che non deve più assolutamente ripetersi a che ora e in che luogo si svolgerà la cerimonia? la cerimonia si svolgerà presso il parco della resistenza alle ore 16 e 30 dove verrà montata, verrà messa questa targa il ricordo di Antonio Margioni e di Aldo Francesco Chiricozzi due celevecchiesi che subirono la morte presso le fosse ardiatine la targa che poniamo domani è provvisoria perché noi avremmo voluta metterla al viale le lungaggini burocratiche nonostante l'impegno dell'amministrazione ci hanno portato intanto a porla al parco della resistenza speriamo che entro un paio di mesi e tre mesi possiamo metterla definitivamente al viale perché credo che questi due martiri meritino questo tipo di riconoscimento questo tipo di inizieria debbo dire un'ultimissima cosa noi riteniamo che il nostro impegno tra le varie cose che stiamo facendo deve svilupparsi nel riconoscimento di tutte quelle persone di tutti quegli civili da vecchiesi che in qualche modo sono caduti o comunque si sono sacrificati per portare nel nostro paese la democrazia e la libertà quindi è un riconoscimento che noi dobbiamo dargli fino in fondo Lavori sull'area del Pincio in vista della primavera la zona di Piazzale e Guglielmotti è oggetto di numerosi cantieri sul cui stato di avanzamento lavori ha fatto il punto della situazione il vice sindaco Manuel Magliani l'intervento più complesso è senz'altro quello al tetto della palestra scolastica che ha comportato il montaggio di una gru da parte della ditta esecutrice per tale ragione è stata occupata una parte del campo di basket che tornerà comunque pienamente fruibile a fine lavorazioni i lavori sono in corso anche all'antiguo parco protetto per bambini che riaprirà quindi dopo un periodo di chiusura e veniamo alle tantissime segnalazioni che continuano a pervenire alla nostra emittente da alcuni giorni da parte di numerosi telespettatori relativamente al distacco dell'insegna ma anche di pezzi di intonaco dal negozio che si trovava all'angolo tra Corso Centocelle e via Risorgimento il fatto è avvenuto circa un mese fa l'area è stata poi transennata ma costituisce un vero e proprio pericolo per quanto per le persone che si trovano a transitare nell'area e naturalmente il distacco è avvenuto per fortuna senza conseguenze per i passanti ma vediamo il nostro servizio è trascorso ormai quasi un mese era infatti il 26 febbraio quando durante la manifestazione contro l'installazione del biodigestore nella nostra città di 120.000 tonnellate si svolgeva una manifestazione il corteo procedeva lungo corso Centocelle provenendo nei pressi del tribunale dove si era raccolta la manifestazione ebbene quel giorno soffiavano forti raffiche di vento a seguito delle quali proprio nel pieno centro della città è venuta a cadere la scritta l'insegna che sovrastava il negozio di Piazza Italia che si trova all'angolo tra Corso Centocelle e via Risorgimento ebbene lo sottolineiamo perché sono arrivate tante segnalazioni alla nostra emittente rimaniamo stupiti nel considerare il fatto che forse non vedono bene i nostri amministratori i nostri tecnici perché è sorprendente il disagio che riguarda il passaggio dei cittadini a livello di pedoni naturalmente parliamo che debbono fare un giro completo tenendoci all'esterno del marciapiede quindi mettendo a rischio la propria incolumità e potete vedere le immagini tranquillamente delle macchine che girano nella rotatoria e mettendo davvero in pericolo i numerosi passanti che nel corso della giornata si trovano a passare in quell'area ebbene è sorprendente lo dicevamo perché insomma è visibile un mese è tanto e non si è ancora provveduto sì è vero l'amministrazione comunale ha messo delle transenne per evitare il passaggio nell'area però è allusinante che permangano ancora le stesse condizioni di non percorrabilità di quella zona ebbene noi lo vediamo i detriti sono ancora lì l'insegna parte dell'intonaco e anche alcuni pezzi di muro giacciono a terra chi deve provvedere? forse la ditta non lo sappiamo però certamente il comune non può pensare di lasciare soltanto mettendo delle transenne per impedire la fruibilità della zona e poi mettendo a rischio davvero la sicurezza delle persone e allora sorge immediatamente una domanda un dubbio che naturalmente riguarda tutti i cittadini di Civitavecchia soprattutto quelli che percorrono questa zona giorno dopo giorno in caso di incidente chi dovrà rispondere delle conseguenze? chi dovrà pagare i danni? noi rivolgiamo questa domanda naturalmente agli amministratori un intervento è assolutamente auspicabile al più presto possibile e su questo stesso argomento registriamo un intervento del capogruppo del partito democratico Marco Piendibene ormai circa un mese fa a causa del fortissimo vento delle pesanti lastre di marmo precipitarono a terra a corso cento celle proprio di fronte alla rotonda di largo arditi del popolo inizia così la nota del capogruppo del partito democratico che si chiede come sia possibile che nessuno si preoccupi a distanza di tanti giorni di ripristinare la normalità oggi spiega Piendibene quell'area ancora transennata crea parecchio disagio costringendo i pedoni a invadere la carreggiata proprio nella zona nevralgica della rotonda con tutti i rischi che questo comporta perché il comune non sollecita i responsabili a rimuovere le lastre di marmo che ancora giacciono frantumate in terra? cambiamo argomento tutto pronto per San Romolo 2022 l'evento ormai diventato tradizionale per la primavera Civitavecchiesi si terrà a partire dalle 20.30 di sabato prossimo al Teatro Traiano 10 le bende in gara nella serata che verrà presentata da Luca Grossi Fabio Truffio Claudia Barbara ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione ascoltiamo le nostre interviste Assessore all'insegna della solidarietà un festival non più Sanremo ma San Romolo che torna per la terza edizione sì infatti questo spettacolo che abbiamo già potuto vedere anche lo scorso anno ha portato dei grandi risultati soprattutto di sensibilizzazione e consapevolezza di quelli che possono essere i problemi reali poi nel sostenere le persone diversamente abili ma soprattutto quelli che sono affetti da patologie dello spettro autistico piuttosto che anche altri disturbi comportamentali ci si è resi conto che qualcosa questa città doveva fare soprattutto sul progetto che mi è stato presentato da parte di Giordano Tricamo abbiamo voluto dare una maggiore attenzione perché quest'anno lo abbiamo finanziato noi con i fondi dei servizi sociali quindi con l'Avvocato Marrani che ha seguito tutta la situazione insieme anche a Grazia Coccetti che poi ha seguito quella che è la parte burocratica per quanto riguarda noi insieme alla Presidente Emanuela Mari abbiamo voluto dare quindi il nostro appoggio assisteremo sicuramente a quello che è è uno spettacolo solidare ma coinvolgente soprattutto fatto da artisti si tratta di uno spettacolo organizzato con quella che è stata la valutazione di queste bande numerose bande che si sono avvicinate anche a questa competizione e che si scontreranno bonariamente a suon di note sul nostro palco il taglio che abbiamo voluto dare a tutti i partecipanti è quello di reinterpretare le canzoni della storia di Sanremo facendole in chiave proprie quindi dando una prevalenza un po' alla simpatia all'ironia per cercare di passare una serata piacevole ma per potersi comunque divertire e gareggiare per essere la miglior band del San Romolo e per vincere il premio Solidarietà che è un premio che andrà direttamente all'Associazione Spazio Eira il gruppo che raccoglie più fondi vincerà questo premio che prevede anche la registrazione di un video e audio del brano con cui parteciperanno alla manifestazione i proventi verranno utilizzati per realizzare alcuni progetti che abbiamo in essere uno è già da anni sul territorio attivo che è appunto un amico in più vale a dire far uscire i nostri ragazzi con coetanei delle scuole cittadine anche non delle scuole per favorire la creazione di amicizie vita quotidiana, vita sociale e un altro che partirà a breve è di gestione della quotidianità con la realizzazione in autonomia dei pasti della giornata quindi insegnare a cucinare, a fare la spesa, a organizzare, a suddividere i pasti conoscere gli ingredienti in modo che un giorno, un domani in prospettiva di una vita autonoma o comunque ospiti siano attivamente partecipi e quindi creativi, non passivi non solo soggetti passivi perché spesso questi ragazzi vengono visti come persone da accudire in realtà hanno tantissime risorse e noi cerchiamo di tirare fuori tutto il massimo potenziale Nuova data per il Civitavecchia Spring Music Festival la rassegna organizzata da ATCL in accordo con il Comune Civitavecchia venerdì nella sala in muricone della Cittadella della Musica alle 21 salirà sul palco il pianista Enrico Zanisi tra i giovani talenti più acclamati nel panorama internazionale con un concerto che condurrà il pubblico in un viaggio dalle sonorità jazz fino ad arrivare alle sperimentazioni più elettroniche del genere i biglietti per il Civitavecchia Spring Music Festival possono essere acquistati al prezzo di 10 euro al botteghino del Teatro Trialo di Civitavecchia da oggi a sabato dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 19 oppure su Tic to One Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio il Civitavecchia continua alla rimonta le posizioni che valgono i playoff in Erazzuri questo pomeriggio hanno travolto la strea in trasferta per 5 a 2 nel recupero dell'ottava di ritorno di eccellenza decisivo è stato il giovanissimo Bersaglia classe 2004 che ha realizzato una splendida doppietta match equilibrato con i romati che nel primo tempo sono andati in vantaggio per poi subire la rimonta dei Civitavecchisi che si sono portati sul 2 a 1 grazie a Funari e Bersaglia come dicevamo nella ripresa dopo il pareggio dell'ex giunto Liceroni ha segnato il 3 a 2 e ancora il classe 2004 Bersaglia e Ruggero hanno regalato il pocherissimo alla squadra guidata da Castagnari che in classifica è sempre quarto ma ha adesso 5 punti in meno dalla Fabielle Cimini che è seconda e si trova a meno 3 dalla W3 Maccarese e veniamo alla palla nuoto la NCC Vitavecchia ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria con il Latina che le ha permesso di lasciare l'ultimo posto solitario in classifica il successo sui Pontini ha regalato alcune notizie molto positive anche se sono ancora molti gli aspetti da migliorare in vista di un altro scontro diretto stavolta nella vasca del Tuscolano ascoltiamo il nostro servizio la NCC Vitavecchia si è sbloccata anzi si è stappata il termine viene facile da utilizzare se si pensa alla festa del post-gara contro il Latina in cui i Rosso Celesti hanno celebrato la seconda vittoria stagionale fra bottiglie di spumanti e pizzette anche per salutare al meglio il compleanno di Daniele Simeoni la squadra di Pagliarini e Baffetti è salita a quota 6 punti raggiungendo l'Alba Chiara questo è il successo che può cambiare una stagione o solo una rondine che fa primavera visto che siamo in periodo la gara con il Latina ci regala 3 aspetti positivi e 3 negativi partiamo da quelli meno lieti la NCC sbaglia ancora troppo sono tanti gli errori banali questo si è visto soprattutto in difesa con i 12 gol subiti da una formazione non tra le più quotate la seconda è che spesso ci sono poche alternative e oltre al passaggio al centro boa a volte manca chi si prende la responsabilità del tiro oppure si tenta la conclusione in maniera avventata il terzo aspetto da considerare è il calendario il Civitavecchia deve ancora recuperare due partite cosa che intaserà il programma gare dei Rosso Celesti e non dimentichiamoci che potrebbero capitare altri rinvii che vista la situazione Covid potrebbero anche non dipendere da situazioni legate alla NCC ma riferite alle squadre avversarie ma ora basta con i pollici in giù ora passiamo invece alle note positive arrivate dalla sfida di sabato la prima riguarda l'entusiasmo che si è visto nel gruppo in occasione della vittoria contro il Latina si tratta di una causa che non si notava da tempo che magari si era smarrita anche a causa della scarsità di pubblico causato dalla restrizione dell'ultimo anno la seconda nota lieta porta il nome di Davide Romiti ok l'unione del gruppo ok i giovani che vogliono mettersi in mostra ma il capitano Rosso Celeste fa la differenza la realtà è questa il Latina ci ha lasciato più margine rispetto ad altre squadre e così il centro boa l'ha punito 6 gol all'andata e 6 gol al ritorno l'ultimo aspetto felice è stato il fatto che la NC ha saputo giocare in verticale se da una parte c'è fatica nell'andare alla conclusione dall'altra si è notato che i Rosso Celesti hanno spesso tentato dei passaggi in avanti premiando le penetrazioni di chi stava nuotando verso la porta avversaria o trovando sbocchi importanti per Romiti questo è un segnale della crescita fatta dall'NC in questo ultimo periodo ma ora bisogna riconfermarsi lo scontro diretto di sabato a Roma contro il Tuscolano rivelerà altri aspetti importanti sulla corsa alla salvezza rimaniamo alla palla a nuoto recupero senza punti in tasca per la Coser a Santa Maria Capavetere nel match del campionato di A2 le gialloblu hanno perso di misura per 7 a 6 contro il Volturno gara sempre complicata per i 7 di Daniele Lisi spesso sotto nel punteggio un KO che è arrivato nonostante i tre gol di Citino i due di Bottiglieri e il centro di Tortora con questa sconfitta la Coser manca l'appuntamento con la Vittoria che deve cercare di trovare già da domenica prossima a Cosenza passiamo al basket non ci sarà sabato prossimo a Frascati per la Stemar 90 scististica l'inizio della seconda fase del campionato di serie C Gold di basket la formazione frascatana ha infatti chiesto ed ottenuto il rinvio della partita che doveva giocarsi sabato alle 20.45 il palazzetto della Banca d'Italia dove gioca il Frascati sarà infatti indisponibile per tutto il weekend la partita sarà quindi recuperata mercoledì 6 aprile alle 21 l'esordio della Stemar 90 nella seconda fase propedeutica ai playoff per la promozione in serie B avrà quindi al Palaricucci domenica 3 aprile alle 18 contro la fortissima San Paolo Ostiense che ha chiuso al secondo posto del girone A la sua regular season siamo alla pallavolo stanno diventando ormai continui rinvii delle partite per la Comal Civitavecchia Vole in serie C la sfida che era prevista per questa sera sul parquet del KK EUR è stata rinviata data da destinarsi la motivazione sono i casi covid riscontrati nel gruppo squadra romano con la comunicazione arrivata nella serata di ieri al club rosso-nero a questo punto potrebbe essere in dubbio anche la partita di domenica prossima che vedrebbe affrontarsi nuovamente Comal e KK EUR ma questa volta la palestra del Barcone e passiamo ora al calcio A5 un volto storico del futsal locale torna a far parte del movimento stiamo parlando di Claudio Moscatelli che è il nuovo direttore generale dell'atletico Tierrena l'annuncio è arrivato dal presidente del club gialloblu Ermanno Muneroni Moscatelli ha raggiunto grandi risultati soprattutto negli anni 90 con la sua ERG Moscatelli sia al maschile che al femminile a breve in una conferenza stampa spiega a Muneroni presenteremo il nuovo direttivo inoltre comunicheremo ed illustreremo il nuovo progetto le novità e gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 5 anni e passiamo al windsurf la Liga Navale arriva da un weekend di importanti novità e tante emozioni presso la sezione locale si svolte il campionato nazionale di windsurf tecnico 293 6 le prove in due giorni che hanno coinvolto ben 77 atleti e proprio in merito a questo evento questa sera alle 21 al termine del nostro telegiornale andrà in onda uno speciale con interviste ai protagonisti e bellissime immagini della Liga Navale veniamo ora ad una segnalazione che ci arriva dalla zona del mercato il nostro telespettatore ci ha contattato da via Leonardo per segnalare la situazione di forte degrado come si vede dalle immagini che ci sono state inviate il cittadino riferisce di essersi recato nei bagni e che per poco non è sprofondato a terra a causa del suolo ceduto ed arrugginito per fortuna sono stato pronto a salvarmi a non avere conseguenze gravi dichiara il telespettatore ma se fosse toccato a qualche anziano o comunque a qualche signora come sarebbe andato a finire? non c'è nessuno che controlla il bagno andrebbe rimosto e ristrutturato come sempre bisogna aspettare che ci siano le disgrazie e noi giriamo la segnalazione agli organi competenti ma ricordiamo che su questo bagno di via Leonardo siamo già intervenuti con le nostre segnalazioni della rubrica Occhio sulla città proprio nella giornata di martedì ebbene termina qui questa edizione del TRC Giornale prima di salutarvi vi ricordiamo come sempre di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata anche con i nostri programmi naturalmente a risentirci grazie per averci seguito